Continuano gli incidenti tra automobilisti e animali selvatici lungo le strade italiane. Oltre a sterminare mammiferi, rettili e anfibi, gli scontri possono ferire o addirittura uccidere il conducente del mezzo di trasporto. Secondo Coldiretti, nel nostro paese ogni 41 ore si verifica almeno un impatto tra quattro ruote e fauna selvatica. Ma quanti grandi animali vengono uccisi nei sinistri? C'è una stima? Abbiamo sì delle stime, in realtà vittime non sono soltanto grandi animali che chiaramente essendo di una certa mole come può essere un cucciolo di orso, un lupo o spesso anche cinghiali, chiaramente se ne viene a conoscenza perché c'è un impatto, spesso purtroppo mortale, con l'autoveicolo. Però c'è da sottolineare che le vittime, parlando di fauna selvatica, in questo caso per incidenti stradali, sono spesso volatili, soprattutto rapaci notturni. O anche per esempio rospi, oricci. Questo chiaramente se ne parla meno perché sono animali purtroppo spesso non visibili, quindi l'impatto è, ahimè, praticamente spesso volentieri inevitabile, ma secondo dati ufficiali sono le vittime proprio più frequenti. Questo perché giustamente gli animali selvatici continuano il proprio percorso, devono muoversi e chiaramente non hanno la possibilità di conoscere la presenza di una strada e quindi la presenza di veicoli. Secondo voi di OIPA come si può risolvere questa vera e propria mattanza? Noi spesso abbiamo chiesto l'applicazione degli strumenti preventivi proprio per la tutela della fauna selvatica e ricordiamo anche per le persone perché come avete detto all'inizio gli incidenti purtroppo con animali possono avere delle conseguenze anche gravi. Pensate che addirittura, secondo fonti dell'ISPRA, addirittura di più di dieci anni fa, le province hanno segnalato una media di 15 mila sinistri all'anno dove sono presenti, dove sono vittime animali selvatici. Un dato di dieci anni fa che però ci deve far riflettere che molto probabilmente oggigiorno purtroppo ha aumentato perché c'è un aumento chiaramente delle infrastrutture e della viabilità. E addirittura abbiamo un dato allarmante del 2020, una fonte autorevole, tra l'altro un anno caratterizzato dal lockdown e quindi in teoria dove la viabilità è stata anche limitata, ma addirittura possiamo parlare purtroppo di quasi 90 incidenti stradali dove sono vittime persone, quindi con morti o feriti gravi. Quindi questo per far capire che è un problema per la tutela della fauna selvatica e anche per la sicurezza pubblica. Quindi come OIP abbiamo chiesto spesso volentieri di applicare misure preventive che possono essere per esempio quella dello studio e dell'installazione, chiamiamola così anche su un termine tecnico non propriamente corretto, dei cosiddetti corridoi faunistici che sono spesso utilizzati all'estero. Da poco per esempio se ne è parlato addirittura in California dove si è deciso per tutelare animali di grossa taglia e di creare addirittura dei ponti naturali. I corridoi faunistici per intenderci sono dei corridoi, quindi dei passaggi da una zona naturale a un'altra zona naturale e questo serve alla fauna selvatica perché per natura chiaramente gli animali della fauna selvatica devono spostarsi perché comunque seguono delle rotte migratorie chiaramente naturali e hanno la necessità ovviamente sia di seguire il clima che anche di riprodursi e quindi noi uomini nonostante giustamente andiamo avanti con i nostri sviluppi e quindi purtroppo spesso volentieri andando a interferire in natura dobbiamo comunque rispettare le immigrazioni e quindi chiaramente anche la vita e la sicurezza della fauna selvatica. Ma perché è così complicato costruire queste infrastrutture verdi? C'è uno studio vero e proprio perché i corridoi faunistici come abbiamo detto prima hanno proprio la funzione di unire delle zone naturali ad altre zone naturali passando dove l'uomo ha messo la propria mano e quindi non è che possono essere fatti diciamo così per bellezza, devono seguire dei studi particolari quindi giustamente devono seguire delle rotte migratorie naturali e quindi questo spesso e volentieri può essere complicato questo richiede uno studio interdisciplinare e può andare anche a toccare magari degli interessi economici perché magari un corridoio faunistico passa in una zona dove in realtà magari c'è l'idea di andare a tirar su una costruzione insomma o insomma qualche progetto che in realtà non si sposa proprio con il corridoio faunistico. Cosa dobbiamo fare dopo aver investito un animale e chi non si ferma a soccorrere per esempio un cervo, un coniglio oppure un orso se è rintracciato successivamente all'incidente può essere denunciato? In caso di incidente con un animale in generale ricordiamo che abbiamo un articolo del codice della strada che prevede proprio l'obbligo di soccorso nel momento in cui si verifica un sinistro stradale dove un animale è stato appunto vittima quindi c'è un incidente con un animale in particolare può essere anche un animale protetto ricordiamo che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato deve essere comunque tutelata e quindi se si verificano ipotesi di questo tipo sia chi ha cagionato l'incidente sia chi eventualmente è coinvolto comunque presente deve assolutamente provvedere per la tutela degli animali. Cosa fare quindi? Allora niente panico mi rendo conto che siano situazioni complicate perché spesso quando si verifica una situazione di questo tipo magari la persona si trova anche in zone magari impervie può essere la montagna dove magari non prende molto il cellulare zone magari non ad alto traffico però abbiamo la possibilità di chiamare anzitutto il numero unico di emergenza che ricordiamo è il 112 questo numero unico pensate che è addirittura europeo che cosa succede? Contattando il numero veniamo geolocalizzati noi segnaliamo indicativamente dove siamo ma con i cellulari attuali per esempio possiamo appunto essere identificati spieghiamo all'operatore che cosa si è verificato e l'operatore praticamente smissa la telefonata e quindi ci mette in contatto con la polizia provinciale o eventualmente la polizia metropolitana a seconda di dove ci troviamo e se l'animale è ferito in maniera grave o può rappresentare un animale pericoloso perché comunque giustamente la fauna selvatica deve essere trattata chiaramente con una certa attenzione può essere contattato anche il servizio veterinario di zona quali possono essere i consigli? quindi chiedere subito soccorso possiamo anche cercare una clinica veterinaria vicina ricordiamo per esempio che da poco la Fnovi ha lanciato un sito con anche un'app molto interessante che è struttureveterinarie.it quindi con una mappatura dell'Italia dove possono essere trovate delle strutture veterinari più o meno vicini a dove siamo ed eventualmente chiedere aiuto anche a una struttura più o meno presente nel momento in cui un soggetto non provvede quindi spesso sentiamo purtroppo magari animali di grossa taglia che quindi sono visibili che sono vittime di incidenti stradali e non vengono soccorsi in realtà poi si può essere passibili di una sanzione pecuniaria molto elevata perché il codice della strada su questo è molto severo pensate che si parte da una, io dico multa quindi sanzione pecuniaria che può andare da 400 euro fino a addirittura oltrepassare i 1500 euro in alcuni casi si può andare anche nel penale vi posso dire che esiste però non diciamo in questo caso la vittima non era un animale di fauna selvatica ma un gatto quindi in questo caso parliamo di animale domestico abbiamo una sentenza addirittura di condanna per maltrattamento nei confronti di un gatto perché una persona, in questo caso una donna nonostante fosse stata avvertita di aver investito un gatto che era rimasto all'interno di un cortile condominiale e il gatto appunto era stato investito non è tornato indietro e il gatto purtroppo ha avuto la peggio quindi poi c'è stata la denuncia e la condanna per maltrattamento aggravato siamo andati in ambito di animali domestici ma il discorso comunque può essere comune proprio perché il codice della strada e in alcuni casi quindi anche il codice penale tutela situazioni di questo tipo Ecco, animali domestici e animali selvatici alla fine si tratta comunque sempre di animali ma cosa chiedete oggi alle istituzioni per fermare questa vera e propria strage di innocenti chiamiamoli così? Noi chiediamo l'applicazione di misure preventive quindi abbiamo parlato per esempio di corridoi faunistici l'installazione di reti soprattutto nelle zone ad alta intensità dove c'è la presenza di fauna selvatica reti però che devono essere comunque oggetto di una manutenzione periodica se no è chiaro che possono rompersi o l'animale addirittura può scavare e romperle e andare dall'altra parte la presenza di cartelli questi già ci sono ma comunque è importante segnalare la presenza appunto della possibilità di animali che possano attraversare la strada la presenza di disfasori acustici o addirittura ottici cioè quei disfasori chiaramente che sono stati studiati per la fauna selvatica e che se installati in un certo modo anche questi devono essere oggetto di manutenzione periodica possono fare in modo che l'animale appunto sentendo vedendo una determinata luce non si avvicini neanche alla strada non si avvicini neanche alla strada non si avvicini neanche alla strada non si avvicini neanche alla strada